La prima lezione di meditazione La prima cosa da fare è trovare la giusta posizione Per coloro che sono seduti a terra Incrociate le gambe Portando il piede sinistro sulla coscia destra Mentre la gamba destra rimane sotto la gamba sinistra Le mani conserte appoggiate sopra le gambe Con entrambi i palmi rivolti verso l'alto Facendo attenzione Che la mano destra Rimanga sopra la mano sinistra Se è possibile Chiedete più attenzione Mettendo il pollice sinistro A contatto con l'indice della mano destra Cercate comunque Di mantenere La posizione sempre eretta Ma non in tensione Per coloro che sono seduti sulla sedia Il consiglio è di mantenere sempre La schiena diritta E intanto Di mantenere sempre La posizione più comoda Unite le mani Davanti all'addome Facendo attenzione Che l'indice della mano destra Vada a toccare Il pollice sinistro Iniziamo la meditazione Chiudete delicatamente gli occhi Senza sforzare Rilassate tutti i muscoli del corpo Mantenete la tranquillità E la serenità Che in thailandese Si dice Sabai Sabai Respirate A pieni polmoni Perché Ci aiuta Ad allontanare I pensieri negativi Inspirate Inspirate Ed espirate Delicatamente Mantenete il respiro lento E profondo Lento E profondo Potete percepire La sensazione Del soffio Dell'aria Sul vostro viso Sulle vostre parti scoperte Che vi rende Una sensazione Bellissima Come una carezza Il vostro respiro Ora Vi rende sempre Più calmi Sempre più Rilassati Sempre più rilassati Seguite il ritmo costante Della vostra La vostra respirazione La vostra tranquillità La potete percepire E potete anche Immaginare Di essere seduti In cima Ad una montagna Oppure al mare Sulla spiaggia Sulla spiaggia più bella Che conoscete La cui forma Vi ispiri Continuate A respirare Delicatamente Inspirate Inspirate Dolcemente Dal naso Portando Il vostro respiro Fino Al centro Del vostro addome Percepite Energia positiva Pura Pulita Un'energia Che vi rende forti Riuscite A percepire La sensazione Del benessere Ad ogni Respiro E quando Ispirate Immaginate Di espellere Tutti I pensieri Negativi Tutte Le vostre Preoccupazioni Tutte Le vostre Ansie Tutti I vostri Problemi Mantenete Il respiro Profondo Costantemente Dolce E delicato Respirate In modo naturale E ad ogni Respiro Portate La vostra Attenzione Al centro Del vostro Addome Rilassatevi Completamente E rimanete Concentrati Sulle vostre Immagini Che vi rendono Felici Contenti Sereni Un po' alla volta Diventate Consapevoli Del vostro Respiro L'ossigeno L'ossigeno Che entra Ed esce Dal vostro Corpo Osservate Osservate Il vostro Respiro Senza mai Modificarlo Diventate Diventate Consapevoli Di ogni Ispirazione Così com'è Per tutta la sua Durata Per tutta la sua E attenzione E attenzione Alle pause Tra un respiro E l'altro Tra un'ispirazione Ed un'ispirazione E non preoccupatevi Di perdere La concentrazione Se qualcuno O qualcosa Vi ha distratti Ricominciate Da capo Ritornate al vostro Respiro Inspirando Ed espirando Dolcemente Ricordatevi Che la vostra mente È alla base Di ogni Forma Di pensiero Potete anche Immaginare Che il vostro Respiro Prenda la forma Di luce Una luce Molto Luminosa Che attraversa Il vostro Naso Fino A raggiungere Il centro Del vostro Addome Ora Visualizzate La vostra luce Che riempie Tutto Il vostro Corpo Che potete Percepire Il calore Che essa Emana E tutta La sua Intensità La vostra mente Si fa sempre Più calma E rilassata Lasciate Che questa luce Attraversi Tutto Il vostro Corpo Durante questa fase Di rilassamento Potete recitare Il mantra Samma Arahan Samma Arahan Che può essere Lo strumento Per fermare I pensieri Vaghi E che significa La giusta via Potete anche dire Limpido Brillante Limpido Brillante Ad ogni rispiro Immaginate La luce In tutto Il suo splendore Edith Edith Sama Arahan Sama Arahan Sama Arahan Limpido Limpido Brillante Brillante Limpido Limpido Brillante Mantenete Mantenete Sempre L'attenzione Sul vostro Addome Limpido Fermatevi Ad ascoltare Il vostro Respiro Che ad ogni Inspirazione Espande Le pareti Del vostro Addome Che si Rilassa Quando Espirate Ora Continuate A meditare Da sole Per un po' Limpido 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 Dampis Limpido 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 Ven Limp architecture Limp contrôle prima che apriate gli occhi per finire la lezione della meditazione vorrei invitarvi ancora a pensare al bene che avete ottenuto oggi durante la vostra meditazione per curare voi stessi ed espandere la vostra sensazione del bene agli altri soprattutto alla vostra famiglia fino a tutti gli esseri che abitano intorno a voi a tutta l'Italia e fino a coprire tutto il mondo continuate ancora a respirare profondamente ed ora riportate i vostri sensi al risveglio e se siete pronti aprite gli occhi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti